Buongiorno a tutti, sono Maria Teresa Fiorato e partecipo dal 2009 al concorso della 50 e più, vincendo anche dei premi importanti per poesia e prosa. Quest'anno partecipo anche con la fotografia, che è una mia ulteriore passione da tanto tempo. Ho partecipato con la foto festa portoghese, che è stata scattata ad Alcobaca, nei dintorni di Lisbona, dove si svolgeva appunto questa festa in costume, nella piazza retrostante, il monastero bellissimo di Alcobaca. C'erano appunto dei personaggi vestiti con i costumi antichi e poi anche dei banchetti dove facevano vedere gli antichi lavori, come venivano fatti, come venivano eseguiti. Quindi molto emozionante, molto suggestivo e mi è piaciuto immortalare questa cosa. Ciao a tutti!